salve a tutti ragazzi allora intanto vi invito subito a iscrivervi al canale sono molto molto veramente certo stavo dicendo vi invito subito a iscrivervi al canale e a lasciarlo a me certe cose veramente me le fanno girare a mille me le fanno girare a mille i milanisti adesso vanno a criticare ok gli sfottò che si tratta solo di sfottò ma aspetta aspettate aspettate vanno a criticare gli sfottò fatti dagli imperisti di vari striscioni le varie cose a parte il discorso che io mi posso anche dissociare ok perché onestamente lì non è tanto un'offesa non è tanto uno sfottò ma è una più un'offesa una persona che anche se a meteo hernandez vista sulle cosiddette ok per il suo modo per tante altre cose non perché per me sia un grandissimo acquisto un grandissimo giocatore come altri pensano che sono delle povere capre da quello striscione che ha esposto dun fris ok mi posso anche dissociare ma che certi milanisti mi vengono a fare la morale oppure vanno a fare la morale vanno a fare la morale su sulla festa scudetto dell'inter perché si sono esposti con vari sfottò e milanista di ventipazzo e milanista chiacchierone e milanista qui ma avete rotto i coglioni cos'è di brucia di brucia ancora il peperoni cosa fai piangi noi eravamo 30.000 quando abbiamo vinto lo scudetto loro erano 300.000 cioè io non riesco a capire ma veramente ma voi ci fate ma voi siete proprio ricoglioniti mentali ma è possibile che io ogni volta che apro sto cazzo di youtube trovo delle cagate allucinanti marietto porca puttana ma marietto ma fin per carità ma che cazzo sei innamorato dell'inter tu che vai sempre a nominare l'inter l'inter vai sempre a nominare sempre le stesse cose vai sempre a nominare le stesse cose marietto porca puttana con tutta magari con tutto il rispetto che ci può essere tra persone ma tu vai sempre a nominare lì ma non hai nient'altro da fare ma perché non pensi ai tuoi cazzi di ai problemi della tua squadra ridicola porco giuda che siete guidati che non siete guidati da uno non si sa chi ancora ma non si sa chi e due siete guidati da un branco di pagliacci no che andate a guardare proprio quello che dicono gli altri quello che fanno gli altri quello che succede nel campo degli altri quello che succede a voi porca puttana non guardate mai un cazzo e non dite mai niente è marietto questo non lo dici vai a criticare tanto porca puttana allo striscione mi smottò ma tu hai mai visto una festa scudetto mi sa di no hai mai partecipato a una festa scudetto da quello che ho capito no almeno l'altando le tue parole stando a quello che dici visto che rimani miravigliato da certe cose da una festa scudetto tu non hai mai partecipato una festa scudetto cioè ma dico io ma è possibile ma è possibile mai dio che io sento ma non solo da marietto ma da tanti altri da tanti altri ma avete rotti i coglioni ma mollate lì ma smettetela di sparare cagate nella gazzetta dello sport interista certo che però voi quando siete avete vinto quello avete vinto ricordiamolo perché come dice il marietto noi abbiamo la memoria che non abbiamo memoria ma anche voi però non avete memoria che quello scudetto ve l'abbiamo regalato noi dille le cose come stanno caro marietto non ti vantare di uno scudetto che magari ti sei trovato dalle mani così che non sapevi nemmeno tu dille le cose come stanno stavo dicendo varie cavate allucinanti le rigore non rigore l'espulsione non l'espulsione certo che però porca puttana se capitano a voi si temuti si temuti non dite un cazzo milanista non capisci un cazzo non c'è niente da fare ormai la tua mentalità a livello calcistica ormai è limitata sei peggio del gobbo non capisci un cazzo non capisci un cazzo vai a guardare la festa dell'internet perché dicono milanista chiacchieroni milanista pezzo di merda ma queste cose sono sempre esistite si tratta di semplice sfottò accettalo e stai zitto e state zitti non che fate i video perché qui vedi che cosa hanno detto vedi che cosa hanno fatto ma che cazzo me ne prego a voi ma perché se c'eravate voi al posto dell'inter che cazzo facevate siete ridicoli siete in ammasso di gente ridicola no gente scusate di tiposi ridicoli tiposi ridicoli sì signore che si vantano per un cazzo che pensano di avere chissà che cosa tra le mani quando hanno solo fumo questa è la realtà di fatto cambiate cambiate spacciatore cambiate medico voi non avete bisogno di uno bravo avete bisogno di un genio della medicina questa è la realtà ogni volta sento sempre ste cagate ste cagate ste cagate ste cagate le solite cagate sempre cagate sempre nominare è la marotta lì 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 certo che però se capitava al milano la juventus tutti zitti e muti certo ovvio ovvio se capitavano a voi certi episodi ah io qui io no ma andate a fanculo andate dai ma andate a fanculo